Ciao a tutti, io sono Luca, io sono Claudio, siamo qui da baseline dal 2009, se non capite un basso Lo facciamo per voi Continuiamo la nostra carrellata di idee, che cosa avremo oggi, cosa ci proporrà questo matto 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 sacchettino Vediamo, apriamolo, infiliamo il manone Ok, sento del morbido, sento del morbido No, non è vivo, non è vivo, è materiale organico ma non è vivo È morto No, poverino, è una maglietta, non può essere viva o morta, è una cosa È la nostra maglietta, la maglietta nuova con il nuovo logo di baseline Stampata su grigio melange, penso che sia melange Fa sentire il cotone? Che bello Il cotone è di qualità molto 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 buona È molto morbidina Sì, vedete quelle morbidissime e un po' elasticizzate, molto fiche, molto cool Per intenderci, questa è quella che usiamo noi Yeah! Quindi se volete andare a Luca Comics o al Cartoon Mix qui a Milano e fare il cosplay di quelli di baseline La potete prendere Non ci avevo mai pensato La grande idea, la potete prendere, indossarla e andare in giro Oppure potete prenderla, regalarla al vostro A bassista Quella del resto è uguale Questa cosa, 25 euro Abbiamo ancora molte taglie S, M, L Forse c'è anche un XL Per i signori un po' più in carne Sì E sono molto molto comode Molto belle E pensate un po', potrebbero essere vostre Fantastico Un regalo bellissimo Molto bella La potete venire ad acquistare qui in negozio Così la provate anche, vedete quanto sono grandi La potete provare fisicamente La potete provare fisicamente Vi chiudiamo da qualche parte Probabilmente nello stanzino dove facciamo le prove E ripichiamo E ripichiamo forte Però poi ve le facciamo provare Oppure la potete acquistare anche via internet In quel caso ci mandate una mail Nella quale dite che taglia vi interessa E noi vi diciamo se c'è o non c'è Tendenzialmente c'è Però ammetti che adesso ne vendiamo 400 Per dire Si sa mai Si sa mai Insomma non si può mai sapere Bella, bella Anche se Anche se La maglietta è bellissima Però Adesso fa un po' freschino Hai ragione Hai ragione Come risolvere questo problema? Allora O vi ubriacate malamente E poi andate in giro anche in canottiera Oppure Acquistate La nostra felpa E già Aspetta che mi giro sul posto Così vedete anche il retro Fantastico Anche questo Sempre per i cosplay Anche questo Sempre per i cosplay invernali Questo Quindi Non so Mentre facciano un cosplay in Austria Per dire Andate E con questa E vi fate vedere Fate crescere i baffetti Come Luca Si Non che ci voglia molto Anzi Cioè per me Ci vuole molto Per voi Invece che siete Normo baffuti Probabilmente Non ci vorrà nulla Quindi sia la maglietta Che la felpa Sono entrambe disponibili Entrambe in svariate taglie Di nuovo Le venite a provare in negozio Oppure Ci mi ha dato una mail Vi diciamo Se ce la taglia Questa qua C'ha la zip Quella che arriva a metà Così se fa freddo Vi chiudete Se fa caldo L'aprite Ed è fatta apposta Di modo che Quando suonate Non danneggiate i bassi Perché noi ci pensiamo A queste cose Ora Non avrete ovviamente questa Perché questa è quella Che ho io addosso Ne abbiamo altre Questa qui la possiamo La possiamo vendere Sì A di più A di più ovviamente Perché è signature Perché è signature Che a noi ci piace il cash Non ci interessa null'altro Ve la vendo anche Quei perucchi Del mio cappotto Pensate un po' Che fortuna Così per avere Il cosplay Proprio Quello originale Fatto proprio bene Quindi Magliette E felpe Per quando fa più caldo Per quando fa un po' più freddo E anche per quando fa molto freddo Perché tengono molto ben caldo Con caldo Le potete acquistare Sia mandoci un'email E vi diciamo La nostra Le taglie che abbiamo Sia venendola a provare Quei negozio Fantastico Fantastico Chissà cosa vi proporremo La prossima volta Sarà un'altra baglietta Sarà una maglietta di legno Sarà un basso di cotone Dovrete venire Chi lo sa Chi lo sa Ci vediamo al prossimo video Lo scopriremo insieme Un sacco di dei regali Fino al 24 Fino al 24 compreso Così se vi svegliate l'ultimo Ce l'avete anche il 24 le idee E vai E viva Al prossimo video Trinko bam Trinko bam Trinko bam Trinko bam Grazie.